che è quella della creazione di un'app. La creazione di un'app è un'ottima cosa, però se poi non abbattiamo le barriere architettoniche ci sembra assurdo rendere tecnologico un sito e poi non poterlo visitare. Per quanto riguarda la domanda relativa al nuovo sito, per quanto riguarda il cimitero, Nuova Tortoreto si riallaccia alla proposta presentata tre anni fa dai consiglieri Domenico Di Matteo e Tia Petrini in merito all'individuazione di un nuovo sito. Abbiamo intuito che forse c'è la volontà di ampliare il cimitero, ma io mi auro che la nostra intituzione sia sbagliata perché pensare a un ampliamento del cimitero di Tortoreto in quella posizione ha sicuramente dei costi enormi e servirebbe solo a spostare il problema del caro istinto soltanto di qualche anno, non risolverebbe comunque il problema. Quindi noi chiediamo all'amministrazione di lavorare soprattutto sull'individuazione di un nuovo sito che permetta una soluzione definitiva del problema legato al cimitero.